Amici di Penna e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Marco Bonsi. Marco benvenuto. Buongiorno Samantha, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora iniziamo con la prima e più temibile domanda. Chi è Marco nella vita di tutti i giorni e chi è Marco scrittore? È difficilissima, allora ti dico un po' chi è stato, chi era, chi sarà, perché è tutto in evoluzione. Allora Marco nella vita si è occupato da quasi sempre di trasporti, quindi io ho cominciato, e turismo soprattutto, ho cominciato nel turismo, mi sono occupato di trasporti di persone e di cose. Uno dei miei primi lavori è stato lavorare in un tour operator, poi ho fatto l'assistente di volo e da quell'esperienza ho scritto il mio primo libro. Negli anni mi sono sempre occupato di trasporti, non so per quale motivo, ma sono rimasto in quel mondo, a diversi livelli, quindi come coordinatore. E poi adesso in questo momento ho cambiato un po' strada e mi sto dedicando, oltre ai miei interessi artistici, a un progetto che riguarda i giochi. È un gioco per bambini e lo sto producendo, lo sto creando insieme a due soci. Quindi questo è il Marco che lavora per vivere, per mangiare. Poi c'è il Marco scrittore che si occupa di cose un po' più alte, almeno dal mio punto di vista, quindi arte, dipinta, arte scolpita e scritta. In sintesi sono questo. Un bel personaggio ha tutto d'ondo. Sì, diciamo che non mi annoio, ho tantissimi interessi più che altro rivolti al mondo dell'arte, quindi se è scritto o dipinto per me cambia poco. Infatti dico sempre che dipingo quel che scrivo e scrivo quel che dipingo, perché tante volte la mia ispirazione viene anche nei sogni di notte oppure dalla vita reale e tramuto queste mie ispirazioni in arte a seconda del mezzo che ritengo più adatto. Quindi se devo parlare di più, scrivere, descrivere, raccontare uso il libro. Se devo invece esprimere un concetto un po' meno elaborato, allora uso la pittura. Interessante questo modo di mettere nero su bianco o a colori su bianco le proprie idee, e il proprio vissuto. Senti, comunque il life motive della tua vita è il viaggiare, perché alla fine se ti occupi di trasporti o viaggi o fai viaggiare e soprattutto viaggi con la fantasia. Sì, non so perché, ma è così. Io ho passato la mia vita un po' viaggiando. Sì, non è che ho fatto grandissimi viaggi, però sono sempre in movimento. La mia esistenza è in movimento. Dovrò farmelo spiegare da qualche psicologo, perché se faccio delle cose è anche perché lo voglio intimamente. Quindi troverò la spiegazione. Prima o poi. Senti, ma c'è un personaggio tra tutti quelli che tu hai creato, che puoi definire il marco di carta, il tuo alter ego a tutto tondo. Sì, esiste. Non posso rivelare il nome perché questo personaggio ha varie identità, nel senso ha un nome e un cognome precisi. È un personaggio che è presente in un libro che non ho ancora pubblicato, è presente in alcuni racconti che ho già pubblicato, è presente come autore di un libro che è in vendita online, ma che non pubblicizzo, volutamente. E lui è il mio alter ego. Lui è una sorta di alter ego, ma non completamente originato da me. È un personaggio che esiste, che ormai sto facendo vivere in vari modi, a vari livelli, e interagire in più libri, in modo da creare una continuità. Lui, non posso dire il nome perché mi rovinerebbe alcuni progetti, però chi legge, per esempio, il mio ultimo libro che ho qua, questo qui si chiama Le aspirazioni mortali, lo troverà. Hai messo tanta curiosità, eh? Sì, creo un po' di collegamenti anche col mondo reale perché, per esempio, quest'ultimo libro che appunto vi ho fatto vedere prima, si svolge nella realtà. Ci sono dei personaggi reali, ovviamente ho camuffato i nomi e le cose descritte sono vere, almeno per quanto riguarda dal mio punto di vista e la mia esperienza. Poi qualcuno potrà contestare, ma non credo, anche perché sono verità che gli addetti ai lavori, quelli del settore, conoscono, ma non possono dichiarare. Siamo arrivati alla metà della nostra chiacchierata. Direi di passare la linea alla regia e ascoltarci Backchat Day Queen. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti